Facile lasciare i border colli liberi e vedere che ti tornano. Prova con i cani da caccia. Bene, in questo video ne puoi vedere ben 4 ed è Fabio Aiosa che mi ha mandato questo video e l'ha messo sul gruppo perché Fabio segue il mio corso online e ottiene questi risultati. Invece di parlare, lui lavora. A te, scelta. Una squadra di oggi. Uno, due, tre, quattro cani da caccia.